Assessore, l'importanza dell'innovazione? Beh, è fondamentale perché aumenta la competitività delle aziende, quindi noi abbiamo questa grande risorsa qui nelle Marche di avere ben 327 start-up innovative. La provincia di Ascoli è la quarta provincia in Italia per densità di start-up innovative, quindi a disposizione delle aziende, delle imprese, sia regionali ma anche imprese nazionali e internazionali, perché possiamo da un lato dare veramente supporto, sostegno a queste nostre start-up fatte di tanti giovani, menti creative che hanno intercettato quelli che sono gli strumenti della contemporaneità, ovvero quelli della transizione digitale, della transizione innovativa e poi le imprese hanno questa grande occasione appunto di potersi strutturare, consolidare attraverso queste start-up che con dei nuovi prodotti al passo coi tempi aumentano indubbiamente il proprio profilo industriale e aziendale. La regione Marche sostiene le start-up innovative attraverso diversi strumenti, allora innanzitutto li stiamo portando in tutta Europa, in tutto il mondo a far incontrare imprese, aziende, players internazionali. Poi abbiamo dei bandi specifici, bandi proprio per le start-up che verranno aperti entro la fine dell'anno, sono circa 10 milioni a favore delle start-up innovative, sia per l'avviamento delle start-up che per il consolidamento delle stesse. Poi all'interno anche di altri bandi ci sono delle premialità per quelle aziende che utilizzeranno collaborazioni con le start-up. Grazie a tutti.